Grazie Presidente, Ministro, colleghi. Il Movimento 5 Stelle presenta una relazione di minoranza al Decreto 104 perché, per altre motivazioni rispetto alla relazione di minoranza già presentata, non pensiamo assolutamente che le risorse all'università, alla scuola siano già abbastanza, ma riteniamo che il provvedimento sia fortemente insufficiente delle risorse aggiunte in questo Decreto, né che si affronta il tema dal punto di vista strutturale. Noi abbiamo affrontato questo Decreto in Commissione tenendo conto che i problemi della scuola, dell'università e della ricerca non siano, diciamo così, episodici, ma siano problemi strutturali, problemi che portano oggi tanti studenti a non poter accedere allo studio. Abbiamo il fenomeno degli idonei alle borse di studio, quindi che hanno i requisiti ma che non avranno mai la possibilità di accedere a quelle risorse. Allora siamo in un Paese in cui il diritto allo studio è negato sostanzialmente e il diritto al lavoro anche e in pratica senza delle riforme strutturali importanti che sono la vera emergenza del Paese si mandano al macero due o tre generazioni di italiane, secondo noi. Che cosa è accaduto nella precedente legislatura? Nella precedente legislatura c'è stata la devastante finanziaria di Tremonti per il 2008, quindi per il collega Bonanno individuiamo dei responsabili. E in quella finanziaria e poi con la legge tristamente nota al mondo della scuola, la 133 del 2008, in pratica si sono decurtati e mai reintegrati oltre 130 mila lavoratori della scuola. E questi 130 mila lavoratori della scuola avevano un apporto di qualità all'interno della scuola. Magari si può mettere in discussione il quadro orario, si può mettere in discussione gli interventi, ma non la necessità di un personale qualificato all'interno della scuola e non i numeri. In questo decreto ci sono tante mancanze. Non le elencheremo adesso perché abbiamo solo dieci minuti, ma nel corso della seduta avremo in modo di individuare quali sono queste mancanze. E noi crediamo che un problema sia proprio emergenziale la qualità dell'informazione, di una società che si deve basare sulla conoscenza. E in questo decreto non vediamo un intervento in tal senso. Rispetto ai docenti, un altro elemento è diverso dai professionisti della scuola, un altro elemento che vediamo negativo del decreto è che si individuano misure di tipo coercitivo verso i docenti. Per esempio, nella formazione di tipo obbligatoria. Ora, noi riteniamo che le politiche che si sono susseguite in questi anni hanno fatto una grossa propaganda sul fatto che, e continuo a farla anche a buon anno, in questa sede, sul fatto che all'interno della scuola ci siano fannulloni, ci siano soggetti non qualificati. Eppure abbiamo laureati che effettuano una specializzazione di due anni prima e adesso di un anno dopo la laurea e quindi che arrivano ad un livello di preparazione che dovrebbe essere elevato. E noi affrontiamo questo sistema, cioè lo valutiamo, attraverso un modo totalmente inappropriato, che è il sistema Invalsi. Il sistema Invalsi individua, attraverso dei test, dei quiz, vuole arrogarsi il diritto di valutare la qualità della scuola. E dopodiché, che cosa si prevedeva in questo decreto, poi leggermente migliorato in Commissione, si prevedeva che, diciamo, gli insegnanti che appartenevano a quelle classi dove i test avevano dato esito basso, dovevano fare una formazione obbligatoria, come se appunto fosse totalmente collegato l'intervento del docente all'effetto delle competenze sullo studente. Ora, sicuramente c'è un parziale intervento del docente sulla misura che è effettiva, ma noi consideriamo che un docente si trova in un sistema dove non ha strumenti tecnologici a sua disposizione, non ha laboratori, non ha strumenti didattici e organizzativi adeguati alla qualità della scuola. E in tutto questo sistema non ci sono il personale di supporto, in tutto questo sistema la colpa e il carico deve essere sempre del docente. A nessuno viene in mente che una seria valutazione dovrebbe tenere in conto i successi formativi, lavorativi e di vita degli studenti. La fondazione inglese Varkage James ha realizzato uno studio mondiale comparativo intitolato Varkage James 2013 Global Teacher Status Index, che segnala come i docenti italiani sono secondi in Europa, solo dopo la Finlandia, per influenza positiva nella vita degli studenti. Quindi, diciamo, magari è qualcosa di non misurabile subito con un test e con un quiz e invece si utilizza un approccio di tipo aziendalistico e economicista per valutare quello che avviene all'interno della scuola. Io la relazione su tutti gli articoli la darò per letta perché è depositato, però mi voglio soffermare sull'articolo 15, l'articolo 15 che di per sé è arrivato blindato in Commissione, sia perché diversi emendamenti del Movimento 5 Stelle su questo articolo sono stati dichiarati inammissibili e sia perché tutti gli emendamenti della minoranza su questo articolo hanno ricevuto un parere negativo del Governo e del relatore. L'articolo 15 riguarda il personale scolastico e definisce un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ata, per gli anni scolastici 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno. Il testo della legge risulta piuttosto omertoso riguardo i numeri di questo piano triennale. Per conoscerli, infatti, bisogna ricorrere alla scheda tecnica allegata al decreto, dalla quale apprendiamo che l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Certo, perché le assunzioni copriranno a malapena i pensionamenti, si prevedono 27.872 docenti e 13.000 ata e non comporteranno incrementi di personale se non per il sostegno, il cui organico di diritto aumenterà di 26.684 unità, peraltro nell'arco di tre anni invece che nell'immediato. Tirando le somme, quindi, il piano triennale prevede l'assunzione a tempo indeterminato di 67.956 unità tra docenti, sostegno e personale ata in tre anni. E non è tutto. L'attuazione di questo ambiziosissimo piano di immissioni in ruolo, espressamente subordinata all'esito di una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria. A saper leggere significa come per le immissioni in ruolo del 2011 a pagare il prezzo della stabilizzazione saranno i neassunti stessi, che dovranno con buona probabilità rinunciare agli scatti di anzianità e rimanere ancorati ancora per chissà quanto tempo al loro modesto stipendio. Questi patti di questo genere sono stati già fatti tra governi e organizzazioni sindacali. È fortemente disattesi. Anche nelle volte precedenti si era detto che c'era un piano triennale di assunzione, c'era il blocco degli scatti, dopodiché quel piano triennale non è stato rispettato. Dobbiamo inoltre notare che, come accade ormai troppo spesso negli ultimi anni, ai proclami trionfalistici riguardo i numeri delle assunzioni nella scuola non corrispondono mai fatti. Innanzitutto, dalla scheda tecnica, sembra che nel conto dei posti disponibili per le immissioni in ruolo rientrano anche quelli dell'anno scolastico 2013-2014, su cui già avrebbe dovuto essere assunti quest'anno per il 50% i precari delle graduatorie ad esaurimento e per il restante 50% i vincitori del concorsone bandito del 2012, che quindi sono inclusi nelle cifre nonostante il profumo aveva annunciato già queste immissioni in ruolo. Vado alla conclusione e vorrei precisare che, alla valutazione estremamente critica nei confronti dell'intero provvedimento, che emerge dalla presente relazione e comunque seguita durante l'esame in Commissione una serie di proposte emendative al testo, anche a dimostrazione della nostra volontà di non svolgere una mera funzione di interdizione negli indirizzi dell'attuale Governo, quando piuttosto un'azione costruttiva nell'interesse del Paese. E' con profondo ramare che dobbiamo però constatare che molte delle nostre proposte sono state dichiarate incomprensibilmente e ingiustificatamente estranie per materia a provvedimento e dunque inammissibili. Vorremmo fare solo un esempio, affinché l'intero Parlamento e poi l'opinione pubblica vengano a conoscenza di quanto è accaduto. Abbiamo scelto un esempio davvero eclatante che riguarda alcune nostre proposte emendative all'articolo 5 del decreto in esame. L'articolo 5 ha per argomento il potenziamento dell'offerta formativa e prevede al comma 1, come già ricordato, l'inserimento di un'ora settimanale di insegnamento di geografia in una delle due classi del bienio degli istituti tecnici e professionali. Bene, chiedevamo l'inserimento come ampliamento del percorso formativo, dell'offerta formativa, anche delle materie come latino, italiano, che erano state già escluse dalla riforma GEMIN. Vado a conclusione. Benissimo. Ci si nasconde sempre, anche in Commissione, dietro alle risorse esigue per questo provvedimento. Colpevolmente esigue. La dimostrazione è che questo Governo ha deciso di puntare su alto, ha deciso di puntare su armi letali da guerra e non per sull'istruzione. La ringrazio, onorevole Gallo.